Salve a tutte e a tutti, oggi vedremo insieme la nuova smartband che mi è arrivata da Gearbest, la Y2 Plus è una smartband molto economica, infatti l'ho pagata meno di 10 euro però ha varie funzioni, come per esempio il contapassi, il cardiofrequenzimetro le notifiche, infatti se colleghiamo lo smartphone alla smartband riceviamo le notifiche di chiamata, le notifiche di messaggistica e se impostiamo tramite le impostazioni possiamo ricevere anche le notifiche delle varie applicazioni che abbiamo sullo smartphone abbiamo la sveglia, il calcolo del consumo delle calorie e il monitoraggio del sonno sempre sul lato della scatoletta troviamo un QR code che serve per scaricare l'applicazione che poi servirà per collegare smartphone a smartband il display è un display OLED da 0,86 pollici ed è touchscreen troviamo questa smartband disponibile in quattro colorazioni che sono nero, blu, arancio e verde io ne ho prese due, una nera e un arancio però quell'arancione mi sembra un po' più un fucsia che un arancione ora il monitor lo vedete di un bell'arancio acceso però dal vivo non è uguale la colorazione la batteria è una batteria da 60 mAh e la casa produttrice ci garantisce una durata di 20 giorni in stand by io non l'ho tenuta in stand by, la smartband l'ho utilizzata e devo dire che è carica da 4-5 giorni non ricordo preciso quanto però si è scaricata veramente molto poco e sempre la casa produttrice ci dice che è resistente all'acqua però io ancora non l'ho utilizzata sotto l'acqua all'interno della scatoletta troviamo un manuale delle istruzioni che è veramente molto essenziale però servirà poco perché è molto intuitiva l'utilizzo della smartband in lingua inglese e in lingua cinese all'interno della confezione troviamo un caricabatterie che altro non è è una presa usb con l'attacco per la smartband possiamo collegarla o allo slot del computer oppure io l'ho caricata con un vecchio caricabatterie di uno smartphone e questa è la smartband vera e propria i materiali sembrano di buona qualità infatti al tatto è anche gradevole toccarla e oltre ai braccialetti che ci fornisce la casa di queste 4 colorazioni su Gearbest se ne trovano di svariati colori e svariate fantasie oltre che di diversi materiali non solo di plastica ma li troviamo anche di acciaio o di pelle e questa è la smartband vera e propria si vede anche molto bene il display anche sotto la luce del sole è chiaro nella parte inferiore invece abbiamo il sensore che è il sensore del cardiofrequentimetro e del misuratore della pressione per attivarla basta ruotare il polso e si attiva automaticamente nella prima schermata troviamo l'orario con la data inoltre troviamo l'indicatore della batteria e il simboletto del bluetooth che ci indica che adesso è collegata con il mio smartphone poi andando avanti qui c'è un tastino troviamo il contapassi la distanza percorsa il consumo delle calorie che abbiamo consumato in base ai passi percorsi le distanze percorsi ecco questo è il misuratore dei battiti cardiaci vedete quando lo accendo si accende una lucina verde che è quella del sensore che poi misurerà i battiti ci mette qualche secondo per misurarla però mi dice adesso che ho 56 battiti al minuto e qui sotto c'è la saturazione di ossigeno nel sangue che è al 92% non so se è buono o no perché non so quanto dovrebbe essere per essere nei parametri esatti quello che vi posso dire è che i battiti cardiaci li misura abbastanza bene io ho comparato la smart band con un misuratore di battiti cardiaci più professionale e differivano di un solo battito al minuto se andiamo avanti invece troviamo il misuratore della pressione sanguigna 77,121 mi dice adesso e anche questa l'ho comparata con un misuratore professionale e differiva veramente di poco la pressione se scarichiamo tramite il QR code l'applicazione noi mettiamo in sintonia telefono e smart band e anche sul telefono avremo tutte queste misurazioni riportate nell'applicazione l'applicazione ci porta come obiettivo giornaliero 10.000 passi da effettuare però questo obiettivo lo potete anche modificare aumentando o diminuendo i passi inoltre sempre sull'applicazione c'è il monitoraggio del sonno io l'ho utilizzato solo due notti la prima notte mi diceva che avevo dormito due ore in più rispetto a quante ne avessi dormito realmente la seconda notte invece non mi ha monitorato il sonno quindi non so se è affidabile o no voglio vedere ancora qualche giorno per capire quanto sia affidabile questo misuratore del sonno inoltre come vi dicevo prima potete tramite le impostazioni settare quali notifiche ricevere e quali no oltre a quelle di default che sono messaggistica e chiamate ecco io con la smart band ho finito vi lascio i link in descrizione per poterla acquistare da Gearbest se vi interessa e vi lascio anche il link della nostra pagina facebook dove potete seguirci ogni giorno postiamo diverse offerte e proposte di acquisto che troviamo su Gearbest e su Amazon noi ovviamente postiamo solo quelle che secondo noi sono più interessanti però perché sono tantissime quelle proposte non possiamo postarle tutte però se voi avete intenzione di acquistare un gadget preciso un drone, un telefono, uno smartphone, uno smartwatch, un computer, un tablet o quello che vi interessa di più potete scriverci o tramite la pagina oppure tramite email che trovate sempre in descrizione ci dite cosa vi interessa e noi terremo monitorato per voi il costo dell'oggetto che vi interessa e poi nel momento in cui secondo noi il prezzo è quello più basso di sempre vi contatteremo e poi sarete voi a stabilire se volete ancora acquistarlo oppure se non vi interessa più io vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione ciao